Non è lui che decide cosa dobbiamo fare con questo gelatonio. Ci siamo? Pronti? Ci siamo? Box! Via! Dai! Direi che uscire! Via! Fai pure un giro se vuoi. Via, vai, vai Carmelo! Dai! Metti i secondi di lavoro! Stai! Vai ragazzi! 10 secondi! Non muodare! Non muodare Carmelo! 10, vai! Metti il tempo! Molto velocemente! Dio! Si pone! Velocissimo di questo pozzo! Metti i miei suoi gambe! Porti veloci! Vedi? Pronti veloci! Poi ne facciamo! Di troppo lungo arrecchino! A specificamente! Lavora molto Danilo, se lavorate con un pressurista è troppo spesso, non è la tua bocca, lavora molto. Tempo, recupera 30 secondi. Basta, questa è una ripetuta. Siamo alla terza? Quarta. Non è vero, siamo alla terza. Vediamo che sarà quarta. Grazie a tutti.